Ciao a tutti, oggi parliamo delle Blackwing, quelle che molti definiscono come le migliori matite al mondo. Sono davvero così buone? Innanzitutto vedremo la loro storia per comprenderne l'importanza e il perché del loro vasto apprezzamento, come sono realizzate, cosa le rende davvero speciali e faremo anche un confronto con altre matite. Per la loro storia partiamo da Eberhard Faber. Il nome vi dice qualcosa? Beh sì, fa parte della grande dinastia Faber-Castell, trasferitosi negli Stati Uniti, nel XIX secolo fonda la sua compagnia di produzione di matite. Nel 1934 immette sul mercato il modello 602, una matita innovativa, in qualche modo diversa dalle altre, con mine in grafite di alta qualità, scura e scorrevole. Da qui il motto half di pressure, twice di speed, praticamente metà pressione, doppia velocità, con l'ormai iconica gomma terminale di forma rettangolare, come si vede qui, ed è la gomma sostituibile ed estensibile man mano che si consuma. Inoltre evita che la matita rotoli su un piano, quindi garantisce questa resistenza al rotolamento. Sono sicuramente innovative. Tale matita fu subito apprezzata da tante persone, tra le quali alcuni artisti di spicco. Le usava ad esempio lo scrittore John Steinbeck per scrivere i suoi romanzi. Peraltro è noto per aver descritto queste matite come eccezionali, ma le usava anche Chuck Jones per disegnare le animazioni di Bugs Bunny, i cartoni Looney Tunes e Mary Melodies. Le usava Vladimir Nabokov per il suo romanzo Lolita, Leonard Bernstein per il musical West Side Story e le musiche del film Fronte del Porto e altre, Duke Ellington per comporre musica e tanti altri artisti. Però, a seguito di varie vicissitudini, il marchio Eberhard Faber rientra nella grande famiglia Faber-Castell, ma già nel 1998 decide di interrompere la produzione delle Blackwing. Tante persone utilizzatrici di tale matite hanno pertanto difficoltà nel reperirle e parte quindi la caccia, la ricerca per accaparrarsi gli ultimi esemplari sul mercato, al punto che alcuni pezzi furono venduti a 40 dollari, sì, 40 dollari una matita. Questa matita è ormai diventata un vero e proprio oggetto di culto. Da qui anche quella dicitura, quella espressione che potrete trovare su alcuni siti e forum la matita da 40 dollari. Visto il grande interesse, Cal Cedar Company, formalmente California Cedar, decide di acquisire il nome Blackwing per riproporre tali matite sotto il suo marchio Palomino. Quindi, il proprietario, riassumendo, è Cal Cedar, il marchio è Palomino, la linea è Blackwing. Nel 2010 vengono reintrodotte le matite Blackwing sul mercato. Poi la proposta si è stesa a 4 diversi modelli, che qui vedete esposti, e ancora successivamente nel 2015 alle edizioni speciali, chiamate Volumes, Volumi. Ora parliamo di produzione e materiali. Il legno è rigorosamente di cedro da incenso, si tempera in maniera omogenea ed è profumato, quel tipico odore di legno che si ha quando si vanno a temperare le matite di buona qualità. Il legno proviene da California e Oregon. Ovviamente è certificato. Importante, viene garantito un ricambio e l'azienda dichiara con orgoglio che da quando ha iniziato la produzione il numero di alberi nelle zone interessate è persino aumentato. Il legno viene poi inviato in Giappone. Il terminale metallico che vedete qui, questo ferretto, ferriull in inglese, il terminale portagomma e la stessa gomma, sono realizzate in Vietnam. Le mine, il nucleo e la parte più importante di una matita, sono giapponesi, di altissima qualità. La scelta non è casuale. In Giappone le matite sono molto utilizzate e tale paese vanta diverse eccellenze nella loro produzione. Assemblaggio del tutto e finitura, ad esempio la verniciatura del fusto, avvengono quindi in Giappone. Poi le matite sono complete, vengono inviate negli Stati Uniti e da lì nel resto del mondo. Quindi, riassumendo, le matite sono formalmente americane. La compagnia che le produce, insomma, il proprietario è americano, ma sono made in Japan. Adesso andiamo a descrivere i modelli base. Innanzitutto, le dimensioni. La lunghezza da intera è di 20,3 cm, quindi è una matita comunque abbastanza lunga. Il peso può variare in base alla finitura esteriore. Questa qua, per esempio, naturale, in cui si vede il legno naturale, pesa 6,4 grammi. Questa qui, una di queste, insomma, verniciate, il peso invece è di circa 6,9 grammi, proprio perché la verniciatura ha comunque quel mezzo grammo in più di peso. Però sono comunque strumenti molto leggeri e ovviamente divengono via via più leggeri man mano che le si va a usare, a temperare, a consumare. La forma è tipicamente esagonale. Qui vediamo questa Natural, in legno naturale dove si vedono benissimo le striature di questo legno di alta qualità, forma esagonale, la mina assolutamente ben centrata, d'altronde sono matite di eccellenza. Vi arrivano non temperate, una cosa che io sinceramente apprezzo perché così l'utilizzatore può temperarle come vuole, con un punto più sottile, più stretto, un angolo più acuto oppure più largo. Diciamo che c'è una maggiore libertà di scelta all'inizio e poi sono maggiormente resistenti anche durante il trasporto. Non c'è il rischio che si vadano a rompere. Il terminale, questa è una cosa interessante, qui una parte metallica, questo diciamo ferretto terminale e qui abbiamo la gomma. L'altra caratteristica, diciamo quasi esclusiva delle Black Wing è che la gomma si può estrarre. Andando a fare pressione qui su questo parte in metallo, vedete, si va a estrarre ed ecco qui abbiamo il ferretto che esce completamente fuori, qui lo si nota forse meglio in questo modo. Possiamo allargarlo man mano che la gomma si consuma, possiamo tirarne fuori un altro pezzetto, lo allarghiamo un pochino, ecco qui, tiriamo fuori la gomma, la posizioniamo magari ecco in questo modo e infine andiamo a rimetterla all'interno. Questa è una cosa indubbiamente interessante perché permette di usare molta più gomma rispetto alle matite con gomma tradizionali. Inoltre la gomma è sostituibile, vengono vendute a parte sotto forma di accessori, qui abbiamo dei ricambi, sono pacchetti da dieci gomme, in questo caso bianche e in quest'altro caso sono nere, ma sono disponibili praticamente in tutti i colori delle Blackwing. Per quanto riguarda gli accessori abbiamo, oltre alle gomme che vi ho fatto vedere, questo è un estensore, vedete che bellina questa confezione, serve per poter utilizzare la matita fino all'ultimo, vediamo qui, questa parte è completamente metallica, anche abbastanza pesante e questa parte qui è in plastica. In pratica se noi andiamo a eliminare la gomma, quindi rinunciamo alla gomma, lo inseriamo in questo modo nella parte posteriore e funziona come estensore e ci permette di usare la matita anche quando diventa molto corta, quindi con grande comodità, anche se la matita è veramente arrivata quasi all'ultimo. Un modo per sfruttare a pieno queste splendide matite fino all'ultimo pezzetto di legno e di mina. Altri accessori sono il temperamatite, i blocchi per scrivere e disegnare sopra, il point guard che sarebbe una parte metallica per proteggere la punta una volta temperata, poi abbiamo una gomma più grande, degli stand per esporre le matite e questi tubi in vetro che servono in pratica hanno lo scopo di tenere una matita ben protetta al loro interno maggiormente per scopi collezionistici. Sono utilizzati anche negli abbonamenti, nelle matite che vi arrivano negli abbonamenti, molto carino, ho detto più che altro ha uno scopo estetico. Ora andiamo a descrivere i quattro modelli base. In pratica Blackwing propone le matite in quattro varianti che poi sono le quattro tipologie di mine che ritroviamo esattamente anche nelle varie edizioni speciali. Qui la stessa azienda dichiara un po' una sorta di indicazioni generali sull'uso, quindi la Natural ha una grafite extra firm e dice che in pratica va bene per il disegno tecnico, per prendere note, poi abbiamo la 602 ha una grafite firm, quindi rigida, dura, va bene per scrivere o per disegnare, la Pearl, quella bianca con la mina bilanciata, va bene così insomma per scrivere o per la notazione musicale, infine la Soft che è quella, la Matte Black è quella più scura con la mina più morbida, scrive in maniera più scura ed è la indica come adatta per il disegno. Queste sono le quattro matite, Natural con finitura naturale, Blackwing con finitura grigia, la Pearl con finitura bianca perlata, molto molto bella, insomma devo dire che hanno fatto una scelta di colori straordinari e qui la semplice colore nero per la Matte che è quella con la scrittura più scura. Ora vediamo un pochino però questa gradazione extra firm, firm, balanced, soft e come si può tradurre nella scala internazionale di durezza perché poi uno non conoscendo le Blackwing potrebbe anche non comprendere bene qual è la matita adatta per l'uso che ne vuole fare. Io ho fatto a tal proposito questo è uno dei tanti fogli che ho usato per fare le mie prove e mettendola a confronto con queste matite della Stedler, sono le Mars Lumograph, matite che ho scelto perché innanzitutto sono abbastanza diffuse quindi la gente magari le conosce, le può acquistare, può capire insomma facilmente come si confrontano con queste, non sono andato a scegliere matite magari strane, particolari, non facilmente reperibili, queste si trovano con una certa facilità sia online che nelle carte liberie abbastanza fornite. Poi sono disponibili in tante gradazioni di durezza quindi mi permette effettivamente di fare dei confronti ben precisi, inoltre sono comunque matite di qualità abbastanza costose, non costano quanto le Blackwing ma rientrano comunque nelle matite molto costose. Come ho detto qui ho fatto delle prove e ho potuto più o meno rilevare questi risultati. La Natural, quella naturale diciamo indicata come extra firm, questa durezza in realtà è tra il B e l'HB della Stedler Mars Lumograph che vi ho fatto vedere. Diciamo che la scorrevolezza è tra B e HB ma è scura quanto una B che ho fatto la prova per vedere quanto fosse scuro il tratto. Poi salendo un po' nella diciamo nella morbidezza possiamo dire che la Blackwing 602 corrisponde sostanzialmente ad una Stedler 2B, è scorrevole come una 2B ma è un pochino più scura, è quasi come una 3B. Saliamo ancora quindi con la Blackwing Pearl e in questo caso vediamo che nella media come la 3B quindi più o meno scorre come una 3B ma è un pochino più scura quindi diciamo che tendono ad avere delle leggeri variazioni rispetto ad altre marche però sostanzialmente vedete che la tendenza è questa e quindi avere una B per la Natural, una 2B per la 602, una 3B per la Pearl e infine la matte che è quella più scura ed è praticamente identica alla Stedler 4B quindi scorre allo stesso modo e ha la stessa scurezza, lo stesso grado insomma di nero della grafite. Così ho voluto fare prove anche con altre matite e qui per esempio ho visto la 5B per vedere se la matte fosse confrontabile con la 5B ma no assolutamente no, la 5B della Stedler scorre di più ed è abbastanza più scura quindi insomma c'è una differenza che corrisponde esattamente ad una 4B. Ora credo che sia il caso di parlare di prezzo. Queste sono matite come ho detto abbastanza costose, normalmente si trova in scatole da 12 pezzi l'una e la scatola viene circa 30 euro, euro più euro meno in base al negozio quindi andiamo a pagare 2,50 euro l'una ma andiamo a pagare anche di più se le si va a prendere sfuse. Qui vi faccio vedere un po' le scatole come arrivano, queste sono le scatole delle Blackwing, molto ben realizzate, molto curate, questa è la 602 e all'interno le 12 matite, qui ne manca qualcuna perché le ho utilizzate, vedete il logo dietro, half the pressure, twice the speed, queste sono insomma le matite in tutto il loro splendore. Ho preso la confezione della 602, anche delle Pearl, invece la Matt e la Natural per il momento le ho prese soltanto sfuse. Quindi abbiamo detto che costano circa 2 euro e mezzo l'una. Parlando di negozi in cui poterli acquistare, beh quello di riferimento è il negozio ufficiale però americano, quindi con spedizione dagli Stati Uniti è blackwing602.com. Però ci sono molti negozi che sono dedicati alle penne stilografiche, qui nel nostro paese, qui insomma sono in Italia e ad esempio le ha stilo e stile, le ha 6 paper, rigetti ink, gold pen, bonvini, hello paper e così via. Magari vi lascio una lista di questi negozi e ve li indico nel box informazioni qui sotto del video. Parlando di prezzi degli accessori, beh come anche le matite, anche gli accessori blackwing sono costosi. Ok le gomme tutto sommato vanno bene perché una confezione da 10 viene intorno a 3 euro e 50 negli Stati Uniti, 3 dollari, sono 10 pezzi, tutto sommato ci sta, è accettabile. L'extender che abbiamo visto, questa è la confezione dell'extender ha un costo di 10 dollari, questo l'ho preso, me lo sono fatto inviare dagli Stati Uniti. Però i temperini già si va da 11 fino a 130 dollari. Il point guard, quella protezione per la punta viene tra i 10 e i 12 dollari. Insomma comunque devo dire che effettivamente hanno il loro costo però sono oggetti curatissimi, fatti davvero bene, fatti anche per durare. C'è tutta una cura dietro ed è importante. Arriviamo alla domanda forse principale di questo video è ma ne vale la pena? Cioè comprare queste matite così costose? Beh sicuramente possiamo dire che sono ottime, su questo non c'è dubbio. Per alcuni sono realmente le migliori matite al mondo, altri preferiscono prodotti come le Mitsubishi Iuni o le Tombow Monocento, poi sono validissime anche le già citate Stedler, Mars, Lumograph. Comunque tutte sono matite relativamente costose, non possiamo paragonare queste o quelle altre marche che ho detto a matite che costano 10, 20 o 50 centesimi l'una. Sono matite che hanno comunque il loro costo. Se vogliamo la qualità si deve pagare. Poi quando le si va a usare si vede ovviamente la differenza. Qui sono disponibili in quattro gradazioni come abbiamo detto e magari se uno vuole far disegno potrebbe preferire delle matite che siano disponibili in un numero di gradazioni più ampio. Magari non si accontenta della 4b, della soft ma potrebbe volere 5, 6 fino a 9, 10b e così via. Quindi in base all'uso che ne fate per scrivere magari vanno bene. Per disegnare vanno ugualmente bene ma per alcuni scopi artistici potreste o anche per il disegno tecnico potreste preferire delle matite più dure nella linea delle H oppure delle matite ancora più morbide rispetto alla 4b. Insomma sono come ho detto matite interessanti, assolutamente valide e perché dovrei sceglierle? Quindi andiamo un po' a ricapitolare velocemente quello che poi è importante di queste matite. Innanzitutto come abbiamo detto la storia. La storia è importante, io non scrivo con la storia, non mi serve all'atto pratico però è importante. Immaginate insomma una penna stilografica, una penna stilografica eccezionale che costi centinaia o addirittura migliaia di euro. Voi la comprereste se non c'è il marchio, se non c'è quindi quella storia dietro, quella cosa che ve la fa riconoscere, se fosse generica, una penna quindi dalle identiche caratteristiche di un'altra penna da 1000 euro ma senza il marchio. Eh no, perché si va a pagare anche il marchio, quello dà importanza e quando le si va a usare quell'oggetto con quel marchio è come se si è maggiormente ispirati nell'uso. Poi sono, l'altro aspetto importante, sono sicuramente di altissime qualità. Qui io posso raccontarvelo ma bisogna usarle per capire appieno quanto siano valide nell'atto di scrivere o di fare degli schizzi, dei disegni. E infine questa è una caratteristica quasi unica, questa gomma è sensibile con la possibilità di comprare dei ricambi che la rendono eccezionale. Molte persone usano tanto la gomma della matita però finisce prima che finisca la matita. In questo modo non avete problemi, effettivamente si può cambiare e inoltre c'è questo vantaggio che non le fa scivolare su un piano. Ora arriviamo un po' alle anticipazioni sul prossimo video. Che cosa vi potrò far vedere sulle Blackwing? Beh, innanzitutto le edizioni speciali. Qui ne ho alcune, non so se si riesce a metterle a fuoco bene per vedere le scritte, i numeri, i volumi. Ce ne sono alcune, ce ne ho anche altre, sono indubbiamente interessanti, ognuna ha una storia e poi ci sarà da parlare anche degli abbonamenti. Questa è una matita speciale che arriva in abbonamento con questo fiala, questo flacone, Vials in vetro. Dove c'è anche la dicitura, la descrizione del tipo di tratto. Questa è proprio l'edizione da collezione che arriva insieme ai volumi ed è solo nelle versioni da abbonamento però. Bene, arrivati a questo punto. Io spero di aver fatto una cosa interessante e utile con questo video. Spero che vi sia piaciuto, abbastanza lungo, ma c'era tanto di cui parlare. Vi aspetto quindi per il prossimo video dedicato alle Blackwing. Vi ricordo che se volete potete iscrivervi al canale e rimanere aggiornati sulle prossime uscite. Vi auguro una buona giornata e vi ringrazio per la visione. Ciao a tutti!